sta rx set davvero tosta da trovare dovrebbe essere un premio per non mi ricordo più che cosa e quindi ce ne sono poche in giro però una macchina che poi ti regala un'altra bella macchinina poi vediamo più avanti comunque ce ne sono davvero poche ora dopo aver provato e riprovato tante volte i miei circuiti mi sono veramente accumulato non volevo uscire vabbè accumulato davvero tante tanti punti adesso ci abbiamo 866 punti ruoti che potessi possiamo convertire poi in ruote della fortuna però non c'ho voglia di fare adesso il processo di acquistare macchine fare quel lavoro però abbiamo già un botto immagino io un botto perché da un bel po che non ne giro più l'ultima volta l'abbiamo girato insieme quel 50 lì poi da allora non ne ho mai più girata una dovremmo averne davvero tantissima e io quindi direi incominciamo 76 buono buono quindi direi incominciamo vedo tante leggendarie noi capita a schifezza però quella da drift non sarebbe neanche male diamo un pochettino che cosa riusciamo a trovare come vedete ma questa ce l'ho già e non mi sento non mi piace nemmeno questa mg ecco questo mi mancava buono buono stavo dicendo vi ho fatto vedere che comprando tutti i vestiti poi venivano tolti dalle ruote effettivamente ormai non ne trovo più bene questo mi mancava stiamo partendo veramente alla grande mi manca però la true no era sesto elemento del tipo che non li ho mai trova neo però non ne ho mai trovate nelle ruote mannaccio se fosse per le ruote a quest'ora neanche sapevo cosa fosse quelle macchine all'ambo sesto elemento è appena passata 69 un bel numero vai vai f no ferrarino buono buono ci dobbiamo fare la collezione con la lira sesto elemento dai dammala giusto per dire che me l'ha data invece no m6 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 coupé questa qui non mi ricordo ricordo che c'era una m hanno la m4 2000 e qualcosa 2016 forse che è il premio finale delle bmw e quindi non si può comprare ed è un'auto rara e che palle niente di che scriviamo va 30.000 abbiamo davvero troppo questo giro 30.000 di nuovo 30.000 fantastico se faccio di nuovo 30.000 vado in prigione diamo 100.000 soldi a gogo non ho visto quanti soldi avevamo inizialmente magari adesso ci buttiamo un'occhiata eclipse dai carina vediamo siamo a 188 milioni e 500 vai vediamo alla fine di tutto quanto quanto arriveremo secondo me un 7 8 milioni no forse 10 milioni ce li facciamo 100.000 a 25 poca roba poca roba questo che cos'è enorme sto fa ma ce l'ho già forse le f 150 l'han fatto così grande sta miniatura che è uscita fuori dal riquadro che sta storia basta costi affari c'era un bel 300.000 lassù 100.000 vai camion ce l'ho già quindi non mi serve 300.000 nice piovono soldi qua la bella morris ce l'avevo già andiamo avanti 20.000 che sfiga guardi c'era la man staga però la v2 ce l'ho già quindi non ci sono due problemi niente 125.000 non male non male vedo un 200 leggendari ce n'è una non so cano nemotico non mi interessa 40.000 125 mila buona vai diamo 35.000 tutto verde che brutto verde e te pareva e te pareva giacca da motociclista questa era bloccata buona buona dai f 150 mi servirebbe la f 50 scusate 25.000 vedo un po di forze di shon vava che sfiga proprio in mezzo alle due c'erano tutte entrambe però 50 un quanto quanto giallo quanto oro e non ci capita della cacata della cacata è sempre un po' coloro un po più cacchetta però una cacata 175.000 vai vediamo o della gioia che sta roba peccato 100.000 90.000 niente di che questa ruota è già partita male 100.000 nomina sta cacata qua vabbè diamo le type che forse non ce l'ho questa va bene va bene dai 15.000 peggio di così non poteva andare 125 quella sotto non ce l'ho mi manca non sarebbe stato male diamo un pochetto altro orologio ne ho già uno leggendario che me ne faccio degli orologi santo dio in gioco di macchine ah c'era la cosa la p4 la ferrari p4 bella questa mi mancava mi mancava ok in serio questa non ce l'ho non ce l'ho buono buono anche se non non impazzisco per queste macchine però sono straveloci in autostrada ci si diverte con questa 30.000 guarda che schifo abbiamo la macchina di hitler no ci ha dato sta roba qua ma pazienza subarino 200.000 dai mi è illuso sembrava quasi un 200.000 vabbè diamo questa era un'auto rara in horizon 4 andava minata valeva anche abbastanza via sta peccata 300 no ci sfugge di nuove me da 200 a 300 abbiamo beccato proprio al centro che non ce ne freddava una mazza 20.000 175.000 ci siamo scampati il vestito server a vabbè dai non male non male in un razzo un 4 faceva un'accelerazione pazzesca con la macchina 200.000 e vai poi eccola finalmente mi mancava la pontiac buono buono poi vediamo un pochettino qua non c'è niente non vedo niente di che 125 mila comunque buono eccola qui la lambo dai lambo dai dai bastardo 250 buono niente sono scesi anche tanto i prezzi delle lambo io ne ho 6 7 non le vendo nemmeno tanto per venderle a due milioni e mezzo tre non vale neanche la pena carino carino questo mi mancava non mi ricordo se c'era già in horizon 4 poi mi sembra che qualcosa di simile c'era 200.000 mamma mia quanti soldi a botte pazzesche 125.000 100.000 a trombetta di sta pippa a vabbè ce l'ho già un'altra trombetta basta trombette tra orologi e trombette qua non ci si salva più impresa del 2005 che ce l'ho già 175 mila buono buono trombetta leggendaria fantastica musica di aldo non so cosa sia 40.000 30.000 poca roba ci sta andando maluccio no questo non darmo non hanno già regalato due volte con i con le donazioni con i regali sti bastardi silvia del 92 preferivo quella sotto onestamente però mi manca questa mi manca ok la malzettina che ce l'ho già 175 mila preferivo quella sopra preferivo anche sto giro con la sopra niente cacate cacate mi dice la prima cosa vorresti fare è la prima volta che me lo domandano no togli mi sta cacata vendi vendi 40.000 ma la prima volta mi propongono cosa fare con una macchina che ho già ma 100.000 170 comunque la sesto elemento è impressionante rarissima rarissima non ci fossero le aste st ma sognerei ancora la notte vabbè ci siamo girate quante erano 60 boh non mi ricordo vediamo quante super ruote della fortuna 21 e son tante dai dai ci esce qualcosa di buono in toria anche più generosa escort degli anni 90 80 bellina bellina a destra abbiamo una p4 che ho già comprato una p4 quella e si peccato peccato c'è andata maluccio vabbè vedo una pagani sulla destra non sarebbe male mi devo fare la collezione di quelle 250 pagani di poco abbiamo il carro funebre vabbè pazienza buono buono un bel po di soldi sfumato il 250 c'era anche una forza edition forse sfumato via tutto vabbè abbiamo un vestitino leggendario speriamo di non beccarlo sulla sinistra c'era qualcosa di leggendario non ho visto il vestitino ce lo siamo scampati per poco ci siamo beccati il camion va bene ma che ci sta andando maluccio forse vision davvero poche ecco la lambo la lambo sulla sinistra l'ho vista l'ho vista dai 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 gira ancora bastarda niente però scevica maro non lo so mi sembra che sia rara come macchina vorrei verificare vediamo niente ci va fiacca a lancercelo già ah vabbè l'abbiamo appena presa la ponte a quelli niente 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 di buono figlioli sto giro queste super ruote mi stanno un attimo deludendo è la ponte che ce la stanno mettendo due in una sola ruota credibile ce la voglio proprio rifilare a tutti i costi ancora vediamo niente sto giro è giacca da motociclista l'ho vinta già prima che cazzo che colore era quello di prima non era nera santa miseria basta sti vestiti comunque sia sono pochissime c'è o mai se quella che sta abominando bene bene questa la si venda un milioncino e più c'era il segreto dentro nella macchinina che regalo vediamo nel prossimo video dai bene bene almeno una soddisfazione ce la siamo tolte poi vediamo pochettina quindi la si può vincere anche con le ruote non lo sapevo diamo la caiman ok poi la ford bronco ha rotto le palle onestamente dai solamente otto giri ci rimangono e fondamentalmente non abbiamo vinto niente di che sto giro non ho neanche visto passare una true non a cos'era quella centrale non so ma luce ma luce c'abbiamo una leggendaria questo non so che cosa sia la macchina di hitler probabilmente fiacca 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 abbiamo una leggendaria sulla sinistra sulla destra vedo qualcos'altro leggendario da bugatti honestamente amini la pagina e non è male quella poi altri due emoticon va beh niente c'è sfumata una forse vision al centro che non ho capito qual'era più 200.000 non male diamo la enzo sulla sinistra al centro qualcos'altro interessa volenzo eccola lì bene bene buona quella mi mancava una bella bugatti a sinistra carina e poi niente sta porsche che palle quelle queste quelle elettrica io detesto le macchine elettriche nei videogiochi ai fermi romani mi dice di venderla badia male come regalo dai oggi mi sento generoso to beccate di sta macchina elettrica a chi un nuovi giocatori vai nuovi giocatori ciao e dai sì il tuo nome sì mamma mia quanti click il tuo legale è stato inviato ok ultime due ruote vediamo 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 sono passate delle cosucce interessanti ma noi non c'è andato un gran che bene vols vago in golf la corrado carina ma vabbè è sempre una macchinetta ultimo giro mannaccia la peppina di capri e fiacca proprio 175 un'altra scirocco va bene mi sarebbe piaciuta anche quella macchina da drift lì al centro che non ne ho macchine da drift però va bene va bene figlio ci siamo girati un botto di ruote siamo arrivati a 194 195 milioni dai giudia vediamo un pochettino che cosa abbiamo vinto facciamo il riepilogo tante macchine nuove tante macchine nuove audi 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 bmw la camaro poi questa che cos'è una ford esco non lo so poi forse disce questa ce la dobbiamo provare ma non ricordo se ce l'avevo già no nel primo profilo l'avevo trovata praticamente subito però questo non ce l'ho poi ferrari molto bene bronco esco del 86 poi abbiamo la fiesta questa qua carina mi piace in orezzo un quattro era molto divertente abbiamo le type jaguar poi questa niente di che abbiamo una bellissima erics 7 bene 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 siamo trovati anche quella del 97 poi le tante macchine mamma mia non mi ero accorto di aver trovato così tante macchine l'eclipse carina poi devo provarmi questa questa pontiac vediamo un pochettino cos'altro c'è di interessante poi basta basta chissà questo maggiolino qua come va chissà questa quanto vale era da sun quella lì ok per dammi il premio sciocchezze sciocchezze dammi anche questo il prossimo nuova ricompensa vediamo questa cosa va actual all'opel vai ci siamo fatti pure la volvo io 25 mila crediti basta to vai ultima ruota della fortuna ma già non vedo niente di che vabbè cari figlioli ci vediamo prestissimo ciao a tutti